Musica Bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video In questo video faremo, non lo so, sinceramente non so cosa ci metteremo a fare Questa è una settimana di ferie per me dopo la gara di San Michele al Tagliamento Che avete visto probabilmente questa settimana Questa settimana qua vado avanti, devo fare un po' di cose Come potete vedere tanto qui Kokao è pronta per il banco prova Aspettiamo in questo momento il messaggio del manfatore che ci dice Vieni il giorno e noi andiamo come vedete bruttissima con cerchi in ferro Con gomme stradali ma il manfatore mi ha proprio chiesto Dammela con le gomme così, con i cerchi così perché mille motivi suoi Quindi la macchina qua è pronta, portiere come potete vedere messe È tutto fissato, è tutto finito, non c'è più una vite da mettere per adesso E quindi attendiamo qui il banco prova Dobbiamo mettere a posto un po' tutto il capannone qua perché è veramente un disordine incredibile Allora mi prendo un po' di tempo per sistemarlo E in più come potete vedere qui c'è la macchina della mia morosa A cui andremo ad installare il cambio 6 marce Cambio 6 marce che come potete vedere è esattamente qua Motore, 1216 valvole Tirato giù da un appunto che avevo io in officina Cambio 6 marce, semiassi, qua c'è tutta l'elettronica, centraline e tutto Mentre qui ho tirato giù un po' di altri pezzi Vabbè c'era l'elettroncino classico della Sporting C'era la barra di torsione che è più grossa di quella della Marty Quindi andiamo a mettergliela su Non mi ricordavo se la macchina avesse la frizione a cavo o a idraulica E quindi ho tirato giù anche tutti e tre i pedali Leva delle marce con le 6 marce, corde Radiatore perché non si sa mai Ventola perché non si sa mai Servo freno, pompa dei freni, tutto il giro tubi Qui come potete vedere per la frizione Ma in realtà ce l'ha già montata quindi Mai tanto bene e in più il motore 1216 ha l'acceleratore elettronico Quindi avevo bisogno anche proprio del pedale fisico Comunque oggi cominciamo appunto con il mettere su il cambio 6 marce Vediamo se tutto si inserisce bene senza fastidio, senza niente E vediamo insomma di mettere questa 6 marce alla Marty Perché in quinta chi dè pietà a quest'auto Allora ragazzi come potete vedere qui la macchina è ancora qui Per voi è passato 2 secondi Per me 4 ore di lavoro, non ho filmato niente Perché effettivamente non c'è nulla da far vedere Perché il cambio è perfettamente stato montato sulla macchina della Marty In pochissimo tempo e senza alcuna modifica di niente Come potete vedere è qui montato Tutto è collegato, ieri sono già andato a provarlo Le corde sono state messe, tutto a posto Ho messo l'olio del cambio nuovo Adesso ve la alzo un attimo, vi faccio vedere anche da sotto Anzi prima vi faccio vedere il pomellino 6 marce Come potete vedere Eccolo qua, 6 marce montato perfettamente Qua, tutto a posto Se mi assi sono rimasti gli stessi Non c'è alcun tipo di problema Anche questo supporto qua è rimasto invariato L'unica cosa che mi è successa è che si è rotto la vitina Lì come potete vedere Qui c'è, lì no Quindi oggi andrò sicuramente a togliere questo rivetto E metterlo nella vite passante E per il resto ragazzi la macchina è a posto Non ho dovuto fare veramente niente Infatti avevo già preso tutte le cose che prima vi ho fatto vedere Però non mi è servito nulla tranne Vabbè ragazzi non so dove mio padre mi abbia appoggiato la cosa Comunque questa parte qua Che vi faccio vedere adesso Questa parte qua Pensavo di doverla cambiare tutta In realtà è identica Cambia solo praticamente la cornice Dove c'è il pomello delle marce Sotto c'è la cuffia La cuffia c'è una cornice di plastica Che si incastra nel tunnel centrale Ecco quella cornice va cambiata tra Un pomello e l'altro Perché ha i fori diversi La si sfilla, la si cambia Finito il lavoro L'unica modifica che ho dovuto fare Niente altro Tutto perfetto Provata ieri La velocità finale secondo me In sesta Sta a un 4-500 giri più bassa Del 5 marce A meno a ricordi miei Però le cambiate progressive sono una figata Cioè la macchina non ha più buchi È proprio boh 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 Così tranquillissima Anche se un 8 valvole e un 16 Secondo me è più che sufficiente Insomma Qui come potete vedere C'è il 1200 16 valvole Il centro ovviamente è il cambio Ah ecco qua che vi dicevo Questa qua è la cornice che va cambiata Si sfila da qui Si cambia solo questo pezzettino qua Qui c'è il cambio a 5 marce Qui c'è un po' di roba Un po' di casino Un po' di tutto Adesso finisco di fare Un 2 lavoretti A questa macchina qua Devo raddrizzargli il volante Devo sistemare dietro le luci Che fanno cose strane Perché le masse Le punto Sapete tutti che Hanno questi magnifici problemi E Livelli Guardo un po' Ancora qualcosina Potremmo che sia tutto a posto Che stasera gliela consegno alla Marti E poi Domani devo venire Stasera vengo su col panda Da Pordenone E sono arrivati Che c'erano in macchina I giunti Dei semiassi esterni Perché scrocchiano Sono arrivati Insomma sono da lì Probabilmente dall'89 Quindi Loro l'hanno fatto E Dopo Dovo cambiare il pezzo di scarico centrale Perché il mio è tutto Iper saldato Fa schifo Perde ovunque Quindi l'ho comprato nuovo 35 euro E lo mettiamo su Quindi faccio ancora qualche cosetta E poi ci rivediamo Perché bisogna sistemare Tutto il casino che c'è Qui Ragazzi come potete vedere Ho finito la punto della Marti Lavoro facilissimo È stato un attimo Ho bucato Ho messo una vite Sistemato lo scarico Pulito le masse Tutto funziona Adesso Ci dedichiamo a mettere a posto Tutto questo incubo di officina Perché ci sono pezzi Veramente fermi Da un sacco di tempo Tipo Questi Siamo ancora il collettore Del mio motore Che è in moto Da tipo un mese e mezzo Quindi Vanno rimessi a posto Devo sistemare tutto Quassù I banchi Come potete vedere Sono un disastro Incredibile Quindi oggi Dobbiamo un attimo Mettere a posto Tutto Quanto Cominciamo Che sennò Si fa veramente Tardi E alle 3 Devo partire da qua Che sennò Che sennò Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci qua ragazzi, giorno dopo, ho messo le auto che non mi servono qui per adesso, il pandino è già sul ponte, quindi tra poco andremo a fargli lavoro dei giunti e dello scarico, finisco di collegare l'ultimo tubicino che vi ho detto ieri e poi continuiamo appunto con il pandino. Ecco qua ragazzi, tubicino montato, era proprio questo qua, non sta perfettamente dentro ma per andare sul banco è più che sufficiente, dopo faremo un qualcosa per farlo stare più aderente in modo che non entri la polvere da qua. Questo qua è un recupero vapore di olio e fa il giro praticamente sotto e si collega a una Y sotto il collettore di aspirazione. Era l'ultima cosa che ci mancava, adesso metto il cofano, metto assolutamente benzina perché è quasi finita per la 35esima volta. Ecco qua ragazzi, scarico nuovo del pandino, andiamo a sostituirlo a questa roba qua che ha preso un sacco di botte tutto piegato e saldato per, avevo messo un silenziatore per altre cose mie, niente cavo via tutto, che è la cosa migliore. Prima però direi di andare a fare un buon caffè. Bene. Mi state guardando? Mi state guardando? Dato che è giunto a un lavoro un po' di m***a, io controllerei un attimo la pompa della benzina dietro perché per me ha qualcosa che non va. Perché la macchina è andata benissimo dopo che l'ho fatta 7-8 mesi e poi ho cominciato un pochino a calare di potenza, però il motore è a 30.000 km quindi vabbè. E secondo me la pompa che è quella di cocao che abbiamo comprato insieme alla macchina quattro anni fa e che era ferma da altri quattro anni, forse ha cominciato a dire sono stufa di lavorare. E quindi vogliamo provare a controllare che non è un'altra da poter mettere su, dovrei comprare un'altra come quella di cocao che c'è su adesso, su Amazon. O se no dovrei cambiare il serbatoio e mettere quello della 1100 che ha già la pompa integrata, qualcosa del genere. E tutto controllo se fili e tutto va tutto ok, se va tutto ok, boh, intanto vediamo. Non mi piace questo collegamento, adesso con un po' di tempo gli faccio i collegamenti, quelli super seal, quelli che si trovano su Amazon per capirci, con i pin, perché non mi piace tanto questa cosa, perché potrebbe fare così. Uno, due, e adesso vado a fare il pin che manca rosso, di là. Allora, guarda che grande angolo, prendo tutto. È veramente grande questo angolo. È enorme. Allora, stiamo andando a Doverzo, non manca ancora tantissimo, penso un 20 minuti, anche meno. Dietro qua c'è cocao. Forse. Abbiamo aperto le... Non c'è? Sì. Abbiamo aperto le scommesse, secondo me la macchina sul banco, almeno che non esploda tutto e venda tutto. Fa 150 cavalli, secondo te? 150 a due. Ciao, due cavalli. Secondo Ivan? Basta che funzioni che vada. 20? Secondo Ivan ne fa 20. No dai. Adesso parlerò un pochino con Matteo, gli dirò, ascolta, se per tirare fuori 5 cavalli devi rovinarmi la macchina... Sotto i 180 a non darmela. No. A me bastano 150. Basta che siano 150 da zero a 8000. Sempre, non gli ultimi mille giri che non servono un cazzo. E adesso dai, arriviamo là, vi farò qualche clip da fuori del posto e ci vediamo dopo dai. Rudy ha detto che se esplode vende tutto. Sì, concordo, lo metto anche qua su YouTube. Anche sullo l'ho per comprare un altro. No, no. Se esplode sul banco, se mi chiami e mi chiami e mi dice, Rudy esplosa la macchina e dico puoi buttare tutto nel ferro vecchio. Io vendo tutto e mi do a... L'Ipica. L'Ipica, all'uncinetto... Ma che cambio il motore? Ma che cambio il motore? Ecco, vendo tutto a Ivan. Io butto via tutto, non ne voglio più sapere. Hai detto che butte via, quindi non vendi. Allora butto via tutto a casa di Ivan. Butto via a Ivan. Boh, ci vediamo dopo. Ciao a me. Ciao. Buongiorno ragazzi. Oggi è il 25 aprile. Siamo già giovedì. Questa settimana di ferro sta proprio volando. Vieni abbiamo portato una macchina da Matteo. Ci abbiamo parlato un pochino. Non ho fatto clip perché è la prima volta che vado lì, quindi non volevo essere troppo invadente. Abbiamo parlato un po' di quello che ha benvenuto la macchina. C'è il colà, mi ha spiegato un po' il metodo con cui lavora, eccetera. Mi sono trovato abbastanza bene. E quindi la macchina adesso probabilmente starà là circa una settimana. Se tutto gira come deve girare. Se poi vengono fuori problemi, inconvenienti, cose del genere. Sì, i tempi si allungheranno. Molto probabilmente. Se tutto va bene dovrei esserci per la gara di Veronella. che è il 26 maggio. Se tutto va come deve anche perché una volta finita la mappa c'è da cambiare semplicemente un paro olio. Ho notato che perde una cucina di olio ogni tanto, di olio cambio. Ma nulla di così difficile da fare. E poi la macchina veramente è completa. Quindi veramente è la fine del tunnel questa. Oggi invece andiamo avanti con il pandino. Gli cambieremo i giunti. Gli rifarò l'impianto elettrico di accensione pompa. E centralina che c'è un relè vicino al pedale della frizione. Voglio spostarlo da lì perché non è una posizione per niente comoda. E capita ogni tanto che quando faccio il mona in 4x4 E uso la macchina come andrebbe usata. Ecco. Succede che magari il piede tocca un attimo quella lì e mi si stacca la pompa. Allora devo andare lì e riattaccarlo un attimo. Così ecco là. E non lo voglio più aver lì. Voglio averlo in un'altra posizione. E quindi oggi faremo giunti e quella cosa lì. Dopo bisogna andare a prendere la marketing stazione. Che arriva su qui il treno. Andare a pranzo in Sagra. Apre la mano. Il mio paese storico in cui sono nato e cresciuto. Perché ogni anno bisogna andare almeno a mangiare una grigliata. Ecco. E poi il pomeriggio si continua di nuovo a lavorare. Tutto qua. Quindi dai ci vediamo il cappannone. Ok ragazzi. Ho sistemato qua l'impianto. Ho fissato il relais. So che non vedete niente ma. Il relais qui. Gli ho cambiato il filo del più. Gli ho messo un fastan di quelli che una volta che entrano. Devi schiacciare la linguetta per farli uscire. Quindi siamo a posto. Adesso sistemo tutto. E alziamo la macchina. Allora ragazzi. Ho lazzato la panda sul ponte. L'ho messa in 4x4. In quinta. Al minimo ovviamente. Perché cominciava un pochino a vibrarmi. La macchina abbastanza no. Allora. Come potete vedere qua la gomma gira dritta. Normale no. Guardate questa. È abbastanza storta. Non so cosa è successo. Sinceramente. Ma va tutta. Guardate. Va tutta di qua e di là. Assurdo. Ed è stretta eh. Vabbè abbiamo capito il perché. Il panda saltella. Tanto che questa qui prima era davanti. Forse. Mamma mia guardate qua. Però mettetevi in uno slow motion per farvi capire. Eccoci qua ragazzi. Finito di fare il pandino. Qua dietro di me. Ho cambiato i due giunti. È stato un lavoro molto semplice. Un'oretta di lavoro. Ho fatto tutto. Non so se vi avevo fatto vedere gli upgrade. Ma gli avevo messo questi fanali qua. Circa un sei mesi fa. Sono veramente belli. Secondo me. Belli carini. Non omologati come al solito. Perché è così. Ma con i lumini che c'è il panda. Di notte veramente non ci vedevo niente. Ho trovato l'occasione. Gli ho comprati. Sono come potete vedere. Led di posizione. Questo qua quando metti la freccia. Diventa arancione. Tutto il cerchio. Questi sono abbaglianti e abbaglianti. E poi si comprano questi adattatori qua. Stampati in 3D. Con la finta freccia. Perché appunto la freccia rimane questa. Sono molto carini. E fanno il pandino un pochino più aggressivo. Carino. Però l'importante è che si veda veramente bene. Peccato che non siano omologati. Ma ragazzi. Così è. Andiamo a fare un po' di test col pandino. Vala vala. Che è il caso. Siamo a perdere la martin stazione. Vediamo se è arrivata. Vediamo dove è. Eccola. 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 Tan tan tan. Tan tan. Ha questo conta. Popo un'altra macchina deficiente. Perché mi stai filmando? Ola! Perché ti sei filmato? Che sto facendo un weekly vlog, faccio la radio per terra. Io senza i miei cuscini, posso dormire. Tutto bene? Questa è la chiave del mio cuore. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Ma a minuto che arrivavi 15 minuti in ritardo, invece sei 3 minuti in ritardo. Sì, neanche. Ha corso come un matto anche quello. Eh, c'ha ragione. Cosa è il pick-up? C'ha ragione? Eh sì! Se forse mettono le strisce c'è un motivo! Guarda quella! Corri! Guardate qua, la città Udine, bellissima anche tu. Guarda qua, che spettacolo. Cordenone. Guarda qua, quanto verde. Sei alberi messi in croce. Secondo me, di tutti quelli che mi seguono sul canale, nessuno è mai stato a Udine. Tra me, Ivan e Dennis. Il resto, nessuno. Dai, chi ci vive? Guarda qua, va qua! Adesso andiamo a mangiare? Sì. Bene. Io ho fame. Dovemmo aspettare un po' Thomas, però. Buongiorno. Buongiorno. Ieri alla fine, dopo che siamo stati a prendere la mardi, abbiamo deciso di buttare la settimana in bacca, no, la giornata in bacca. Diciamoci, siamo riposati tutto il santo giorno. Perché sono arrivata io. Esatto. Lei ha detto, basta stare in capanola e adesso noi stiamo tranquilli. E siamo così tranquilli. Ma è vero, è caduto? Oggi invece, dobbiamo fare la conferenza del bambino e intanto facciamo la scorciatea di camping per andare in cappanone. Sì, adesso andiamo a prendere due birroche da mangiare insieme al caffè in cappanone. E poi cominciamo la giornata che anche oggi è cominciata tardissimo. Ma molta calma. Solo oggi è cominciata tardissimo, perché solitamente ci siamo sempre fatte alle sette, sempre qualcosa, oggi sono le nove passate. Ma quando c'è la mardi così non si può, non è te. Che colazione magnifica. Allè. Grazie. Cuoco, salve. Ciao. Salve. No. Salve. Oggi mangiamo la griglia. Buono. Il sopra della griglia. Il sopra. Buon appetit. Io da me, io da me pretendo sempre il 200%. E quando si è bettuto bene però è già. Ma però ha messo a posto quello che è la caffè. Daily vlog. Fatti spiegare cosa è appena successo. Ma sì. Mi ha dato messo del mappatore di 2 minuti e 47. Un bellissimo audio. E pensavo già che mi dicesse... Esplosa! Esploso tutto. Io te la carico e vieni a prendertela. No, invece mi ha spiegato un po' cosa ha fatto. L'ha già messo sul banco. Ho già provato un po' a vedere. Eravamo fuori con gli anticipi. Cioè quello che leggeva la centralina in realtà era 10 gradi in meno. Quindi se tipo l'anticipo era 40 gradi in realtà la macchina ne faceva 30. Quindi bene. Abbiamo dei... Boh... L'evento adesso girano in modo progressivo. Che non ero riuscito a farlo. Che avevo sbagliato. Vabbè, è un parametro. E mi ha chiesto delle delucidazioni sul dove ho attaccato i fili sulla centralina. Perché giustamente seguire un impianto elettrico che uno ha fatto è un po' un casino. Quindi adesso gli ho mandato i miei bellissimi schemi scritti sulle buste della... Dell'Enel forse. Dell'Enel o qualcosa del genere. E questa qui che è scritta a mano con 37.000 correzioni. Allora buttarlo fuori qua. E' più che contento per essere la prima volta che fa l'impianto elettrico e cerca di metterlo in una macchina. Ha fatto più che bene. E mi sembra che ci può stare. Puoi starci contento? E non ti puoi fare quella faccia lì? No, no. La carne bastonata. No, sono contento. Oh, sì, adesso sei contento. Prima avevo un muso, guarda. Eh, quando otteniamo un'auto di 2 minuti e 47.000 dici, no, no. Eh, non è che può essere anche un'auto di 2 minuti e 47.000. Oh, cazzo, ho fatto bene, va bene questo, va bene o quello. No, sempre negativo, sai, cazzo. Bene. Ciao. Buona la griglia, comunque. Buona la griglia, comunque. Ma la f***a. Prefora a bere. Bene, stai zitto, sto parlando io. Adesso aggiungiamo una scommessa, cioè, no, una scommessa. Una previsione. di quanti cavalli dovrebbero venire fuori. Rui ha detto 150, io 152. Ivan? Non ha detto, ha detto basta che funzioni. Ok. Tu? Io ho dei 172. Easy, come va bene? Tu? Io 113. Ti porco, vaffanculo. 103, sto vengo a mettere sul 1000, sì? No, dai. Non si può bestemmiare. 150, tu? Siamo family friendly. 180 è troppo. Eh, direi. 165 l'ha detto qualcuno? No. Ok. Bene, ciao. 155, la cifra lì, io sono già, sono già contento per dire. È da poco. Sì, ho calma, mi ha appena chiamato il mappatore. Porca p***a che bene. Il motore sta rispondendo un sacco bene sul banco. Non abbiamo ancora i cavalli definitivi perché ha fatto delle prove di lancio. E per adesso si è fermato, per adesso a 6000 giri perché lo sta facendo con molta calma in tutti i vari indici di carico, parametri e tutto. Quindi per adesso il numero che ha fatto dei cavalli a 6000 giri è più di 8000 dell'altra volta. Vi dico solo questo. Insomma ci sono altri almeno 2000 giri da poter andare su e, come si può dire, migliorare. E migliorare. Però, dato che io ho chiesto una cosa specifica al mappatore, che i cavalli, il numero è bello solo quando vai al bar e sponi il cartellino. Io ho fatto 200 cavalli, che chi se ne frega dei cavalli, no? Gli ho chiesto di gestirmi la coppia in un modo particolare, che lui ha capito a me cosa serve. In base al mio stile di guida e quindi dedicherà la mappatura più sulla coppia che sui cavalli. Perché i cavalli, ribadisco, sono una roba per bambini, secondo me. Cioè, non servono. E l'importante è avere la coppia. Abbiamo discusso un po', cioè, no, discusso, no, abbiamo un po' parlato del vento, le cose, pompe dell'acqua, il minimo. Ci sono dei parametri da guardare, però sinceramente lui è rimasto molto colpito dalla quantità di cavalli e di coppia che ha sviluppato fino adesso. Ma io sinceramente non mi aspettavo che un mix di due motori così reagisse in questo modo. Comunque alla fine i numeri ve li metterò quando la macchina andrò a ritirarla. E la macchina non batte, è pulitissima, è tranquillissimo, lui è tranquillissimo. E basta, cioè, io sono contento. Lui anche. Ho ancora ogni volta l'ansia quando mi chiama perché è esploso sul banco. In realtà, no. Quindi è bene. Comunque se vedete una cosa diversa qui, questo qua è un nuovo progetto 2024, non ovviamente mio. Non so se si capisce che macchina è. Sì, da cruscotto sì. Se si capisce che macchina è. Chissà sì. Poi c'è il montante giallo, voglio dire. È una bellissima punto sole cabrio 900. Cabrio. Due cilindri. Cabrio, vedi cabrio, vedi cabrio. È capissimo. Questo qua è un nuovo progetto molto, molto spicy, molto bello. Più avanti comunque ci farò proprio la serie dedicata perché io ringrazio veramente Ivan che mi ha dato la possibilità di mettere a mano una macchina del genere con quello che abbiamo comprato per farla andare come deve. E, boh, comunque vi farò un video proprio dedicato. Adesso è solo un'anticipazione in questo vlog. E basta. Sono contento. Comunque io passavo la scommessa dei cavalli. Thomas anche, Ivan anche, papà anche. Io? E tu? Anche. È tutto sopra quello che tutti hanno detto. Io volevo dire 180. Sì. Però tu mi hai detto. Magari avevo ragione io. Che rumore è strano questo punto sole comunque. Bene, saluta, ciao. Ciao. Bella, eh, però. Secondo me siamo a metà di quello che può andare. Prima volta che mi ha colccato una nuova qua. Troppo sì. Sì, abù se lo so. Rimbomba troppo le orecchie, mamma mia. Bene. Sì, è il penultimo giorno di ferie. Siamo qui. Oggi non tanto per lavorare, ma per fare un po' di brainstorming, come si dice. Cioè, abbiamo questo progetto che voi adesso in questo momento vedrete solo il colore, ma non sapete perfettamente che cos'è. O magari se lo immaginate scrivetelo nei commenti. E oggi dovrò un attimo capire come lavora su questa, su quest'auto. Vi posso solo dopo far vedere cosa andremo ad installare. non solo quello, però è la parte principale. Ed sarà veramente un bel progetto. Quindi, mentre oggi la Mara ti dà una mano un po' a pulire un po' tutto, che è un po' un casino. Esatto. Ecco. Io vado avanti oggi a fare questa cosa qua. Oggi la prendevamo un po' con calma. E domani comincerò ad editare il video di San Michele al tagliamento, perché già un sabato siete stati senza video, quindi, però, o sono qui e li faccio, o sono a casa a non fare niente a fare i video e non andare avanti con le cose. Quindi. Poveretti. Quindi, domani, tutto il giorno, diciamo, la mattina almeno, mi metterò lì. Basta, vi faccio vedere solo qual è il componente. Quindi questo qua è il componente, vi faccio solo un... Un, apri e chiudi. Si è visto? Si è visto? Troppo. Si è visto un po'? Basta, 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 basta. Dopo le persone fanno pausa, vanno un po' indietro e vagano. Bravi, bravi, fate pausa e capite che cos'è questa cosa qua. Adesso, un po' di editing. Siamo sabato pomeriggio. Un po' di editing, ci rilassiamo. E poi ceniamo con calma. E dopo cena, ancora un po' di editing. Così sistemo tutti i file di questa settimana. Buongiorno. Oggi è domenica. È l'ultimo giorno del weekly vlog. Weekly vlog, daily vlog, weekly vlog. L'ultimo giorno. Mi sto pulendo casa io. Esatto. Io invece sto lavorando. Come potete vedere, qui, con tutte le cose. In pigiama. Sì, in pigiama. Oggi andiamo avanti un po' con questa ultima giornata di ferie. La mattina lavoriamo ancora un po' un po' un po'. In realtà sono già le 11. Quindi ho cominciato da poco a lavorare. Adesso andiamo avanti ancora un po' che alle 2 dobbiamo essere al compleanno di Brian. Quindi diamoci da fare e ci vediamo al prossimo clip. Eccoci qua ragazzi. È domenica sera. Ho finito adesso di editare il vlog di tutta questa settimana. Questa è l'ultima clip. Grazie per aver visto questo video. Spero che l'idea di questo riassunto delle mie ferie possa esservi piaciuta. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!